Un bambino nato con una rarissima patologia cardiaca che colpisce due o tre neonati ogni diecimila è stato salvato grazie a uno straordinario lavoro congiunto tra l'ospedale di Piacenza e il Sant'Orsola di Bologna. Il piccolo, nato qualche settimana fa all'ospedale piacentino al termine di una gravidanza regolare, appena venuto al mondo non aveva un colorito roseo, quindi il personale medico e infermieristico ha iniziato subito urgenti accertamenti. Un' ecografia Doppler eseguita dai cardiologi pediatri del reparto di pediatria e neonatologia ha permesso di avere una diagnosi tempestiva in appena 30 minuti e molto seria, una trasposizione delle grandi arterie, una gravissima cardiopatia che avrebbe potuto portarlo in poco tempo alla morte. Il neonato è stato quindi messo subito in terapia medica, sono state effettuate le misure necessarie per stabilizzare la situazione e per far arrivare più sangue ossigenato agli organi essenziali come cervello, reni e cuore. Nel frattempo l'ospedale di Piacenza si è attivato per organizzare un trasporto d'urgenza al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, eccellenza per la cardiochirurgia pediatrica. Le avverse condizioni meteorologiche però non hanno consentito l'intervento delle di soccorso ed è stato quindi trasportato in ambulanza accompagnato da una squadra composta da cardiologo pediatra, anestesista e infermiera. A Bologna, a poche ore dalla sua nascita, il piccolo è stato sottoposto a un primo intervento, setostomia di Raschkin e nei giorni successivi a una seconda e più complessa operazione definitiva per riposizionare le grandi arterie, aorta e polmonare. A qualche settimana di vita il bambino è tornato a casa e le sue condizioni sono buone. Questa rete che noi in regione abbiamo tra i punti nascita e la cardiochirurgia di Bologna è una rete molto efficiente ed estremamente efficace come si è visto in questo caso, fatto salvo che la diagnosi venga posta immediatamente come è successo nel caso del nostro bimbo. Personalmente devo dire grazie a tutto il team che ha soccorso il piccolo appena nato, dall'ostetrica che ha subito colto un colorito che era inadeguato al bambino. Da quel momento è iniziato subito una terapia medica che ha consentito la sopravvivenza al bambino, la sopravvivenza peraltro in ottime condizioni e il trasporto immediato a Bologna. Quello che è successo rappresenta un vanto, un motivo d'orgoglio per la sanità pubblica dell'Emilia Romagna, commenta il presidente della regione Stefano Bonaccini. Grazie a tutti.